Eccoci, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Paleo System Academy 2019. Oggi parleremo di programmazione, lavoreremo con processing, che abbiamo già visto nel webinar precedente del ciclo coding per la secondaria, e parleremo di algoritmi genetici. Eccoci, durante questo video parleremo appunto di un capitolo dedicato agli algoritmi genetici, un capitolo tratto da questo libro, The Nature of Code, un libro molto bello che contiene tutti i codici realizzati in processing. È un libro che potete consultare gratuitamente anche online andando nel sito natureofcode.com. Scorrete, andate qui, read now, e potete accedere alla versione HTML del libro. Noi andremo a lavorare sul capitolo 9 appunto di Evolution of Code, e come ho detto, tutti gli esempi di codice presenti nel libro sono esempi realizzati con il linguaggio di programmazione Processing, che potete andare a scaricare da qua, dal sito processing.org. Andate poi su download e scegliete poi la vostra versione, nel mio caso Windows 64 bit. La cosa interessante è che tutti i codici del libro The Nature of Code sono già contenuti negli esempi, diciamo, di base che trovate di default all'interno dell'ambiente di sviluppo, di processing, che andrete a scaricare. Ok, eccoci qui al capitolo 9, che esordisce, diciamo, ponendo qualche domanda al lettore. Qual è uno dei concetti fondamentali di programmazione, che probabilmente abbiamo già usato, diciamo, negli esempi dei capitoli precedenti, o più in generale, abbiamo visto anche nei miei precedenti webinar, e che probabilmente continueremo a usare, sono le variabili. Le variabili ci permettono di salvare dei dati e riutilizzarli durante l'esecuzione di un programma. Ok, questo lo sappiamo, diciamo, insomma, se avete visto altri miei webinar. Possiamo pensare alle variabili di un oggetto informatico come al suo DNA. Questa è un po' la domanda che ci pone qui in questo primo paragrafo, vedete. Can we think of variables of an object as its DNA? Ok. Possono gli oggetti creare altri oggetti, gli oggetti informatici ovviamente, e passare il loro DNA a una nuova generazione? E, come dire, la domanda finale è, quindi, può una nostra simulazione, vedete qui, can our simulation evolve, può una nostra simulazione evolversi, simulando un po', diciamo, l'evoluzione naturale, la, in qualche modo, la, la teoria dell'evoluzione di Darwin? Ok, questa è un po' la domanda con cui si parte, e subito inizia a spiegare poi, che, insomma, un pochino qual è la, la, la storia degli algoritmi genetici, e quelli che sono chiamati gli algoritmi genetici tradizionali. E poi ne spiega anche altri due, ma noi ci concentreremo solo sull'esempio riconducibile, appunto, a quelli, a quelli tradizionali. L'algoritmo genetico tradizionale è stato sviluppato per risolvere problemi in cui lo spazio della soluzione, dice il testo, è talmente vasto che un approccio, diciamo, di forza bruta ci metterebbe semplicemente troppo tempo per arrivare a una soluzione. Qui poi fa un esempio, se, per esempio, io chiedo al mio interlocutore di indovinare a quale numero sto pensando, che ne so, tra uno e un miliardo, al netto della fortuna, ovviamente, diciamo, ci vorrebbe molto tempo per provare tutte le possibili soluzioni, cioè, quindi, per avere, diciamo, per usare un approccio forza bruta, ok? Invece, cosa accadrebbe se il mio interlocutore potesse ricevere da me dei feedback più o meno negativi, quindi dire fuoco, fuochino, acqua, sei vicino, sei lontano alla soluzione, e quindi dei feedback che possano permettere all'interlocutore di valutare la fitness, ovvero l'adeguatezza, l'idoneità della sua risposta, chiaramente questi feedback potrebbero aiutare l'interlocutore che cerca di indovinare il numero a cui sto pensando, lo aiuterebbero, diciamo, ad avvicinarsi, a ridurre il campo delle possibilità e quindi ad arrivare a una risposta esatta più velocemente. Quindi la sua risposta è, in qualche modo, ciclo dopo ciclo, feedback dopo feedback, può evolvere, in virtù, appunto, del feedback, in questo caso dato da me, o più in generale in una simulazione di un feedback ambientale. Perché usare gli algoritmi genetici? Qui il libro ci propone, diciamo, l'esempio delle scimmie dattilografe, che è un esempio un po' ridicolo, assurdo, che però ci aiuta a spiegare, diciamo, l'aspetto teorico e anche, diciamo, l'algoritmo ci aiuta a spiegarlo meglio. Qui parla, appunto, di quello che è chiamato l'algoritmo della scimmia infinita, che, diciamo, o meglio il teorema, scusate, della scimmia infinita, che presuppone che una scimmia presa, che una scimmia prema a caso, diciamo, i tasti di una macchina da scrivere, premendo a caso i tasti di una macchina da scrivere, potrebbe, in teoria, alla fine, digitare addirittura l'intera opera di Shakespeare dato un'infinita quantità di tempo. Ok? E chiaramente l'infinita quantità di tempo è appunto infinita, perché anche prendendo, che ne so, che riesca a fare una stringa di caratteri esatti, anche solo per formare la frase, appunto, essere o non essere, questo è il problema, to be or not to be, that's the question, come dire, avendo la probabilità di azzeccare di 1 su 27 di azzeccare in quel momento il tasto giusto, dovrebbe riuscire ad azzeccare 39 consecutivi di tasti giusti, perché questa stringa di testo, questa frase, è composta da 39 caratteri, comunque significherebbe una probabilità di 1 su un 27esimo alla 39esima, quindi qualcosa che, come dire, potrebbe anche accadere, però, come dire, veramente in un orizzonte temporale infinito. Almeno se chiaramente seguiamo, o facciamo seguire, diciamo appunto, alla scimmia l'approccio forza bruta, cioè di provare un po' a caso tutte le combinazioni possibili. Ovviamente non è una strategia efficace ed efficiente, sia per una scimmia, ma anche, eventualmente, probabilmente per un PC, per arrivare, appunto, alla soluzione. Con gli algoritmi genetici, invece, possiamo comunque partire, magari, da delle frasi random, come nel caso della scimmia, e trovare una soluzione attraverso un'evoluzione simulata. Ovviamente, come ho detto all'inizio, e lo dice anche qui, questo è un esempio ridicolo, in quanto, ovviamente, per scrivere la frase to be or not to be, eccetera, eccetera, non è che abbiamo bisogno di farci aiutare da un programma che genere in modo non deterministico questa frase, possiamo semplicemente scrivere il codice per scriverla direttamente. Ma, ciò nonostante, e il codice è questo, string, s uguale to be or not to be, eccetera, eccetera, print, long, poi la stringa, però, ciò nonostante, è un esempio, anche se assurdo e ridicolo, che ci spiega, che ci permette adesso, più avanti, di spiegare tutti i passaggi dell'algoritmo per arrivare a generarlo, a generare, diciamo, in maniera non deterministica questa frase, con un'evoluzione simulata, cioè generazione dopo generazione. Vi mostro il codice in azione, così vi è più chiaro capire che cosa andremo, diciamo, a ricostruire e a smontare e a spiegare concettualmente. Apro il mio ambiente di sviluppo di processing, vado su file, esempi, e sotto questa cartella qui, degli esempi, diciamo, contributi negli esempi, vado sotto the nature of code, capitolo 9, e trovo questo esempio qui, il 9.0.1, algoritmi genetici Shakespeare. Lo apro. Così come avviene nell'ambiente di sviluppo di Arduino, vedete che è molto simile, la sintassi processing Arduino è molto simile, vedete, la differenza ora che salta più all'occhio è il fatto che i programmi Arduino, la parte del ciclo che si ripete all'infinito si chiama void loop, mentre in processing è void draw, questo perché processing di fatto, come dire, non serve per programmare un oggetto esterno, quindi per fare embedded programming, ma serve per generare soprattutto programmi grafici, e infatti nasce con delle finalità sostanzialmente espressive artistiche. Ok? Premo play e faccio partire il mio programma. Ed ecco qui che vediamo tutte le generazioni, ogni ciclo del programma è una generazione, vediamo quante generazioni ci vogliono per arrivare a formare in maniera casuale, non deterministica, la nostra frase obiettivo. Dopo 1120 generazioni simulate arriva la nostra frase, ve lo mostro nuovamente, poi lo spiegheremo meglio, più avanti nel video, intanto lavoreremo solo su questo esempio proprio per spiegarlo al meglio. Vedete? Qui quindi vengono costantemente presi a caso appunto delle piccole stringhe di testo, qui in questo caso è andato più veloce, 790 generazioni, riproviamo. In qualche modo vengono costantemente generate delle stringhe di testo, casuali e quelle diciamo più adeguate rispetto all'obiettivo in qualche modo hanno maggior probabilità di riprodursi e quindi di fare figli in qualche modo simili a loro e quindi possiamo arrivare, vedete che il tempo per arrivare in maniera non deterministica alla soluzione è ovviamente molto più basso, perché lo stiamo vedendo in diretta, rispetto al tempo che abbiamo detto precedentemente, al tempo potenziale di un 27esimo alla 39esima. Insomma, fare con, gestire tutte queste possibilità con la forza bruta anche per un programma, anche per un computer, richiederebbe veramente tanto, tanto, tanto tempo. Ok? Ripetiamo, perché usare un algoritmo genetico per risolvere, diciamo, un problema così stupido? In questo caso, questo esempio viene fatto solo per spiegare l'algoritmo, perché il punto è che risolvere un problema che ha già una risposta a soluzione conosciuta e appunto ci permette di testare efficacemente il nostro codice. Dopo che abbiamo risolto il problema, possiamo, poi, come dire, qui ci invita a immaginare, a cercare di usare gli algoritmi genetici per fare qualcosa di più utile e creativo, come ad esempio risolvere un problema che ha, diciamo, che ha una risposta non conosciuta a priori. in questo caso la risposta a priori la conosciamo, noi vogliamo formare la frase essere o non essere, eccetera, eccetera, semplicemente invece di scriverla in maniera deterministica facciamo sì che si generi attraverso un'evoluzione simulata, quindi di casualità, in qualche modo non lasciata totalmente allo sbando, ma che, come dire, segua l'evoluzione generazione dopo generazione. quale può essere un uso dove degli algoritmi genetici per arrivare a risolvere problemi di cui non conosciamo a priori la risposta, ci sono varie situazioni, vengono usati per esempio nelle simulazioni di sfondi dei videogiochi per generare, magari vogliamo generare, che ne so, delle melodie casuali ma non troppo, magari casuali che però insomma abbiano un certo elemento controllabile, non totalmente lasciata a caso, che sarebbero poi totalmente come dire, fuori dal gusto musicale, però nemmeno che siano, però magari non le vogliamo scrivere da cima a fondo in maniera deterministica, oppure c'è anche un esempio vi mostrerò proprio alla fine del video dove viene mostrato appunto come che riporta un esempio che qui nel libro lo dice poi negli esempi diciamo di un codice fatto per simulare un po' le traiettorie dei razzi per arrivare a un determinato punto. Insomma praticamente si usa un po' la teoria evoluzionistica per capire come come risolvere un problema ripeto di cui non sappiamo a priori la risposta appunto per esempio la traiettoria di un razzo una melodia che sia come dire fuori dalla nostra zona di comfort merodica oppure una simulazione che ne so di un ambiente di uno sfondo dinamico all'interno di un videogioco che vogliamo appunto che sia dinamico e sempre mutevole e sempre in qualche modo casuale un po' casuale e un po' e un po' no insomma ok vogliamo che sia dinamico e naturale ok andiamo avanti e qui appunto entra in gioco subito la selezione naturale di Darwin affinché possa avvenire in natura la selezione naturale deve diciamo tutti e tre i seguenti elementi devono essere presenti l'eredità cioè ci deve essere un processo attraverso il quale i figli in qualche modo ricevono qualche tratto ereditario qualche informazione dai genitori e che se le creature vivono abbastanza a lungo per riprodursi questi tratti possano passi possano passare appunto ai figli della generazione successiva variazione ci deve essere un po' di varietà nei tratti di una popolazione lo sappiamo bene ad esempio il colore degli occhi dei capelli della pelle l'altezza la muscolatura eccetera eccetera perché la varietà è importante perché se non ci fosse questa varietà i figli sarebbero sempre identici sempre uguali ai genitori e anche uguali tra di loro e quindi non ci sarebbero poi nuove combinazioni originali di tratti e sostanzialmente poi alla fine non ci sarebbe evoluzione terzo punto la selezione anche qui ci deve essere in qualche modo un meccanismo che permetta ad alcuni membri della popolazione di avere l'opportunità di diventare genitori e trasmettere i propri tratti genetici alla generazione successiva ovviamente ci possono anche essere alcuni membri della popolazione che non hanno o hanno minori opportunità di riprodursi e di diventare genitori ok questo perché poi alla fine diciamo statisticamente sopravvive chi è più adatto più adeguato più idoneo a come sappiamo insomma alle richieste della alle richieste dell'ambiente ok queste sono i tre diciamo i tre elementi che devono coesistere perché possa avvenire appunto la la selezione naturale vediamo come trasformare questi concetti in vero e proprio codice ed entriamo appunto nel vivo di come si prima del codice diciamo l'algoritmo che ci sta dietro quindi il modello logico che ci sta dietro ed entriamo appunto in questa la parte 1 degli algoritmi genetici creare una popolazione una popolazione virtuale in questo in questo caso ok il libro ci propone di creare una popolazione di stringhe di testo ok per semplicità lui dice il libro dice fa l'esempio immaginiamo di voler ottenere la stringa cat ok cat ok se per esempio creiamo una popolazione con di sole tre stringhe di soli tre membri queste tre stringhe qui ovviamente è una popolazione che è troppo povera per poi arrivare a ottenere la stringa cat anche provando tutte le ovviamente tutte le combinazioni disponibili anche perché come vedete ci sono proprio dei caratteri che non ci sono come la A anzi tutte e tre i caratteri la C la A e la T semplicemente non non sono disponibili nei tratti della popolazione presa in esame non c'è abbastanza varietà come dice questa frase ok la soluzione qual è invece di creare appunto una popolazione a mano creiamo una popolazione di elementi generati random casualmente la domanda a questo punto è ce lo dice qui e questo è molto interessante qual è questo elemento cos'è qual è questo elemento che andiamo a generare casualmente in genetica c'è una distinzione molto importante tra ciò che si chiama genotipo e fenotipo il genotipo è il codice genetico e qui c'è un esempio chiaro è il codice genetico in senso stretto mentre il fenotipo è la sua espressione ad esempio vediamo qui appunto dal punto di vista informatico saprete se avete già lavorato con processing o con altri ambienti che per esempio le scale i colori in scala di grigi si distinguono le varie sfumature di grigio dall'estremo bianco all'estremo nero si distinguono in base a una scala che va da 0 a 255 quindi possiamo dire che questa è l'informazione genetica cioè un numero un numero intero che va da 0 a 255 mentre infatti è il genotipo e il fenotipo è l'espressione di questo dato di questa informazione l'espressione vera e propria che vediamo ovvero una determinata sfumatura di grigio per nostra fortuna ah qui c'è un altro esempio in questo caso l'informazione potrebbe essere sempre un numero intero quindi genotipo è lo stesso ma vedete cambia l'espressione in questo caso questo genotipo non esprime una sfumatura di colore ma la lunghezza di una linea ok per nostra fortuna come dice qui questa frase nell'esempio delle scimmie dattilografe non c'è differenza fra genotipo e fenotipo in quanto il dna in sede dell'esempio diciamo l'informazione genetica simulata che vogliamo creare e trasmettere è una stringa di caratteri e anche la sua espressione e anche il suo fenotipo è una stringa di caratteri invece qui in questi esempi il genotipo è un numero e il fenotipo invece è un colore oppure una linea più o meno lunga più o meno corta nel nostro esempio che vogliamo costruire nel programma e vogliamo costruire di generazione della della stringa della stringa di testo to be or not to be eccetera eccetera diciamo che gli elementi che come dire il genotipo e il fenotipo corrispondono perché stiamo combinando informazioni di stringhe di testo per vedere stringhe di testo ok quindi ricapitolando la parte 1 del nostro algoritmo è la creazione di una popolazione virtuale ovvero di una popolazione di stringhe di testo generate in maniera random quindi casuale essendo stringhe di testo che hanno noi le vediamo quindi come stringhe di testo e il loro genotipo la loro informazione in qualche modo genetica è sempre una stringa di testo sono un esempio dove di fatto genotipo e fenotipo corrispondono ok andiamo alla parte la seconda parte della creazione del nostro algoritmo che è la selezione qui è dove andremo diciamo ad applicare proprio il principio darwiniano della selezione naturale o virtuale insomma in questo caso occorre in qualche modo scrivere un codice che esegua una valutazione della popolazione creata per determinare come vediamo in questo in questa tabella qui quali membri della nostra popolazione sono più adatti a diventare genitori il processo di selezione è diviso in due parti come vedete qui la prima parte è appunto la valutazione della idoneità della fitness in questo caso in questo esempio ipotizzando che vogliamo valutare l'idoneità di questi tre membri della popolazione rispetto a il nostro obiettivo che stiamo tentando stiamo cercando di evolvere di far evolvere e di far venire fuori da un'evoluzione simulata come vedete qui dove ho il cursore la parola cat chiaramente di queste tre stringhe di testo quella più idonea è car perché vedete ha una fitness di due perché due caratteri corrispondono al nostro obiettivo e poi a scendere c'è questa box che ha zero fitness ok l'altro step il primo è valutare l'idoneità l'altro step è creare una mating pool quindi una piscina di accoppiamento la piscina di accoppiamento ovviamente serve poi per creare i per creare i figli ok possiamo scegliere in base chiaramente in base alla fitness in base all'idoneità possiamo scegliere quali membri della popolazione sono idonei a diventare genitori e chiaramente dopo li abbiamo scelti li portiamo nella piscina di accoppiamento ci sono vari modi per scegliere i genitori più adatti il più efficace è quello diciamo probabilistico detto ruota della della fortuna io ora qui faccio una sintesi di quello che si vede perché il libro prima parla di in qualche modo favorire solo l'elite questo però è un problema cioè quelli che i membri della popolazione diciamo che hanno una fitness un'idoneità maggiore in senso assoluto quindi il top del top del top il problema è che questo nel lungo periodo semplicemente riduce di molto la varietà presente nella popolazione mentre utilizzare una soluzione migliore è quella di usare un metodo probabilistico chiamato ruota della fortuna oppure la roulette in qualche modo dove comunque a tutti i membri di una popolazione viene comunque assegnata una probabilità di venire di venire in qualche modo scelto per l'accoppiamento queste in base alla fitness vedete la fitness poi viene cioè l'idoneità viene normalizzata su una scala da 0 a 1 e viene assegnata una percentuale quindi come possiamo vedere in questa tabella l'elemento B è quello che ha maggior probabilità in qualche modo di riprodursi durante il suo ciclo di vita di accoppiarsi e di riprodursi durante il suo ciclo di vita seguito poi da A D E ciò non toglie che anche il meno idoneo cioè C comunque abbia una piccola probabilità di come dire di di arrivare ad avere a riprodursi di accoppiarsi e di riprodursi questo permette chiaramente nel lungo periodo di mantenere la una varia diciamo una varietà di tratti all'interno del bacino della nostra popolazione questo per non eliminare le variazioni della popolazione appunto in maniera esagerata in quanto comunque alcuni membri anche con un basso punteggio dal punto di vista dell'idoneità potrebbero comunque avere nei propri tratti genetici dei tratti utili alla popolazione in generale che non sarebbe appunto opportuno eliminare del tutto e qui appunto c'è l'esempio di dire guardate la stringa A come è come dire come come è idonea rispetto al nostro obiettivo to be or not to be mancano solo gli ultimi due caratteri anche la B è allo stesso livello la C chiaramente ha una fitness un'idoneità molto minore però ha questo ultimo tassello che altrimenti se la C non facesse mai figli diciamo se l'elemento C non facesse mai figli questo elemento genetico andrebbe andrebbe perso ok rendendo appunto più povera la varietà presente nel nostro bacino quindi ricapitolando primo prima parte della creazione del nostro organismo creare una popolazione virtuale secondo seconda parte simulare un processo di selezione ok selezione darwiniana appunto attraverso la valutazione dell'idoneità e poi la creazione appunto della della piscina di accoppiamento dove si vanno a scegliere in base a un criterio alla fine abbiamo detto il criterio della ruota della fortuna in qualche modo dove si vanno a scegliere i membri diciamo più adatti o comunque diciamo sorteggiati in base alla distribuzione di probabilità non uniforme della ruota della fortuna i membri scelti per l'accoppiamento successivo la parte 3 della creazione del nostro algoritmo è la simulazione della riproduzione ok quindi abbiamo fatto la popolazione abbiamo scelto i candidati e ora viene la vera e propria riproduzione che possiamo simulare in invadimodi perché chiaramente ci sono molte tecniche una per esempio almeno esposta qui a livello teorico potrebbe anche essere quella della riproduzione assessuata ovvero il figlio è l'esatta copia del genitore ovviamente però dato che stiamo parlando di insomma di evoluzione simulazione del processo evolutivo eccetera eccetera negli algoritmi genetici l'approccio standard è quello di scegliere due genitori per creare proprio un figlio seguendo non questa ipotesi della riproduzione assessuata ma seguendo i seguenti step il numero step numero uno il crossover che immagino si possa tradurre in italiano con incrocio dove si sceglie diciamo per esempio che il genitore A sia la parola fork e il genitore B sia la parola play prende un pezzo di un pezzo di l'altro e viene fuori il figlio ok ci sono delle varianti consigliate per rendere diciamo più più interessante le possibilità di combinazione è che il punto diciamo in intermedio non sia necessariamente al centro ma possa variare come vedete in questi esempi per esempio questo figlio qui dal genitore A non è che prende necessariamente due tratti ne prende solo uno il primo e magari ne prende tre dal B viceversa in quest'altro esempio quindi in qualche modo come dice qui il random midpoint cioè il punto centrale casuale è diciamo più è da preferire rispetto all'approccio 50-50 in quanto incrementa la varietà delle possibilità per la generazione successiva ok poi c'è anche un'altra tecnica ma ora questa non ci interessa l'altro step all'interno della riproduzione è che dopo l'incrocio ovviamente può agire il fenomeno della mutazione no? succede qualcosa di casuale che in qualche modo crea una mutazione all'interno del codice del figlio del codice genetico del figlio anche la mutazione viene espressa con una con una probabilità ad esempio può essere l'1% e quindi per per ogni carattere nella stringa generata dal precedente incrocio crossover c'è l'1% di possibilità di probabilità che avvenga una mutazione e come avviene la mutazione semplicemente come di invece di venire fuori magari quello che dovrebbe venire in base allo scambio è la stringa fuori viene fuori foxy perché tra la r e la x viene si manifesta questo 1% di probabilità che ci sia una mutazione totalmente totalmente casuale e la probabilità di mutazione vi rimostro nuovamente il codice in azione il programma processing in azione come vedete la probabilità di mutazione è all'1% quello che vi volevo dire è che la probabilità di mutazione può avere un impatto molto evidente qui lo sottolinea nel libro può avere un impatto molto evidente sul comportamento dell'intero programma in quanto un'alta probabilità che ne so l'80% arriverebbe a negare di fatto l'evoluzione stessa in quanto tutto sarebbe dettato dal caso e non dalla fitness in qualche modo dall'adeguatezza di alcuni tratti genetici che poi vengono passati e trasmessi da una generazione all'altra quindi ricapitolando il nostro algoritmo si compone di algoritmo genetico si compone di tre parti la prima creazione di una popolazione la seconda selezione in base alla valutazione dell'idoneità dei membri più probabili diciamo che hanno la maggior probabilità di riproduzione eccetera eccetera e la terza parte del nostro algoritmo è creare un meccanismo di riproduzione che in qualche modo simuli il passaggio dei tratti genetici dell'informazione dai genitori ai figli ovviamente generazione dopo generazione dopo generazione vediamo qual è la macro struttura del programma chi ha già visto altri miei webinar su processing o su arduino saprà che di solito un programma diciamo nella sua nel suo pannello principale presenta una struttura dove c'è una parte di setup dove vengono eseguite quelle operazioni di configurazione in qualche modo di preparazione del programma che vengono eseguite solo una volta all'inizio all'avvio del programma e poi c'è la parte di loop che è la parte del programma che gira all'infinito teoricamente finché non lo non lo stoppiamo prima delle due parti lo vediamo a breve anche proprio oggettivamente nel codice scritto dentro l'esempio di processing prima del setup si mettono di solito la parte che si chiama di dichiarazione delle variabili quindi questa possiamo dire che sia la macro struttura del programma che viene fatto in processing come è stato scritto nel setup viene messa l'inizializzazione della popolazione cioè viene creata una prima popolazione di un tot composto da n elementi ciascun elemento ha un proprio dna generato casualmente nel concreto come abbiamo visto nel programma in azione nel concreto significa che ci sono una serie di stringhe che sono state generate a caso nelle stringhe con lo stesso numero di caratteri della nostra stringa obiettivo essere o non essere questo è il problema poi nella parte di loop avviene il meccanismo della selezione e della riproduzione ok qui ci sono le varie fasi valutare la fitness di ciascun elemento e poi costruire la mating pool e poi il meccanismo diciamo di riproduzione scelgo i genitori eccetera eccetera l'incrocio la mutazione e aggiungere il figlio alla nuova popolazione e sostituire quindi la popolazione vecchia con quella nuova quindi avanzare di generazione ok andiamo a vedere è appunto questa macro struttura qui espressa a parole andiamola proprio a vedere nel codice eccola qui come dicevo in un attimo eccola qua come dicevo in precedenza prima del setup di solito si fa la dichiarazione delle variabili in questo caso quindi c'è la dichiarazione di una variabile vabbè pfont è semplicemente il font con cui viene rappresentato il programma cioè proprio il font che vedete qui scritto che viene usato in queste stringhe di testo poi viene creata una variabile di tipo string chiamata target un'altra popolazione massima un'altra mutation rate e un'altra variabile chiamata population di tipo population e voi vi chiederete ok questo tipo di variabili float int string pfont vedete sono anche evidenziate e fanno parte diciamo delle variabili standard presente nell'ambiente di sviluppo mentre la variabile di tipo population è un tipo di variabile che è stata creata dal programmatore attraverso la creazione di una di una classe ok la classe è un pezzo di programma che in qualche modo possiamo usare come riferimento per la creazione si dice di oggetti di oggetti informatici in qualche modo cosa significa population population significa creami un oggetto di tipo population e chiamalo population come fa il programma a sapere cos'è un oggetto di tipo population e gliel'ho spiegato tramite la creazione di una classe una specie di modello di come possiamo di archetipo di idea astratta di oggetto population ok ora chiaramente l'argomento delle classi e degli oggetti è uno degli argomenti più difficili anche perché per esempio in scratch si arriva alla creazione delle funzioni agli oggetti alle classi ci si arriva con processing con python eccetera quindi è un argomento piuttosto avanzato vi consiglio se volete approfondire l'argomento su processing di leggere di cercare il libro getting start with processing ok che è un libro abbastanza semplice che spiega tutto il linguaggio spiega diciamo tutte le strutture via via più complesse partendo ovviamente dalle variabili dalle istruzioni funzioni e gli oggetti e le classi che sono proprio uno degli ultimi capitoli diciamo che per commentare in generale la struttura generale del programma ci possiamo limitare anche alla sua pagina principale che è questa dove abbiamo appunto la dichiarazione delle variabili il setup dove viene scelta la dimensione della della finestra il tipo di font qual è il target che vogliamo raggiungere la frase target to be or not to be la popolazione massima su cui andremo a lavorare 150 e la la probabilità di mutazione che è dell'1% e e qui appunto viene in qualche modo definito l'oggetto population dove con vari parametri che come dire che sono appunto già stati definiti qui vedete target to station rate to popolazione massima to ok perché chiaramente l'oggetto population come abbiamo detto durante la spiegazione vedendo il sito vedendo il libro è un oggetto che viene aggiornato continuamente è dinamico perché generazione dopo generazione cambia per questo deve per funzionare deve comunque sapere qual è l'obiettivo rispetto il target rispetto rispetto a cui valutare l'idoneità dei suoi membri qual è la probabilità di mutazione da una generazione da una generazione all'altra e qual è ovviamente la popolazione massima con cui vogliamo lavorare in questo caso in questo caso 150 poi fortunatamente entrando nel loop che in processing che si chiama draw possiamo ci sono i commenti che ci aiutano appunto viene generata la mating pool quindi population natural selection quindi c'è una viene chiamata in questo caso viene chiamata una funzione che è stata definita in uno dei due oggetti o il dna o il population in questo caso dato che è una funzione diciamo abbinata con il punto all'oggetto population è stata definita in questa classe natural selection andiamo giù eccola qua la funzione ok natural selection poi viene creata una nuova generazione quindi vengono scelti vengono fatti accoppiare è creata una nuova generazione con population generate e poi della nuova generazione viene subito calcolata la fitness l'idoneità e nulla viene valutato se siamo arrivati diciamo al nostro obiettivo cioè di avere un membro to be or not to be e poi il ciclo riparte all'infinito questa sotto è una funzione a sé che è display info che serve solo come vedete qui in questo rigo display info serve solo per mostrare le informazioni sono tutti i numeri e tutte le stringhe di testo che vediamo muoversi quando facciamo partire il nostro programma ok vediamo quanto ci mette stavolta ad arrivare al target e qui ci metto un po' di più ne manca uno via nasci nasci ecco 2171 generazioni ok adesso prima di concludere vi voglio mostrare un altro esempio velocemente diciamo un pochino più interessante rispetto a questo questo esempio è stato è interessante come dice il libro per capire come funziona l'algoritmo la questione è che è semplicemente un esempio che ci serve a poco perché non abbiamo bisogno la risposta è già conosciuta possiamo tranquillamente scrivere in maniera deterministica la frase to be or not to be l'algoritmo genetico diventa interessante laddove come programmatore come progettista non so qual è la vera la vera soluzione al problema che mi pongo e adesso lo vediamo in quest'altro esempio allora andate di nuovo in esempi e cercate questo è il smart rockets ok lo fate partire ed ecco lì i nostri razzi che devono arrivare al quadrato che è il loro target ok chiaramente vedete che anche qui c'è una popolazione di razzi e insomma per creare un effetto così come dire organico naturale sarebbe difficile che come programmatore assegnassi in maniera deterministica delle istruzioni delle coordinate ben precise da seguire e in questo caso è qui che si vede l'utilità degli algoritmi genetici io lascio che il programma trovi da solo la traiettoria migliore in questo caso la fitness del razzo viene valutata da in base a diciamo il razzo o i razzi che si avvicinano di più al target e vedete che ciclo dopo ciclo generazione dopo generazione vedete qui generation 12 piano piano vedete che questi figli insomma sono un pochino più bravi ad avvicinarsi al target e piano piano qualcuno arriverà attendiamo ci siamo quasi ci siamo quasi aspettiamo ancora no ancora no si riazzerano perché come vedete qui i cicli rimasti questo è un po' come dire l'aspettativa di vita no in qualche modo la selezione prevede che ci devono devono arrivare all'obiettivo diciamo a una certa età ecco senza prima di morire in qualche modo prima di morire di vecchiaia attendiamo ci siamo quasi ci siamo quasi ecco ecco questo forse ce lo fa ok questi ce l'hanno fatta ok e infatti vedete che il ciclo si riavvia prima qualche qualche ciclo prima non appena tac siamo proprio al limite rispetto alla vita però vedete che adesso più o meno tutta la popolazione generazione dopo generazione è diventata più o meno tutta ecco lì abbiamo visto proprio una mutazione che è andata dall'altra parte più o meno tutta diventa più idonea mediamente a raggiungere questo questo obiettivo eccola lì un'altra mutazione di un altro che se n'è andato da un'altra parte prima di chiudere volevo mi sono ricordato che volevo farvi vedere un'ultima cosa dell'esempio quello precedente della frase di Shakespeare eccolo qua che non ho messo in evidenza prima vedete che la l'idoneità media la la fitness media generazione dopo generazione piano 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 non in maniera linearissima chiaramente però piano piano faccio ripartire piano piano cresce cioè generazione dopo generazione mediamente tutta la popolazione diventa più idonea rispetto a quell'obiettivo in qualche modo quindi il tratto che è più idoneo rispetto a quell'obiettivo diventa sempre più comune vedete 0,79 l'ultima volta poi vi lascio siamo partiti lì da 0,21 0,30 piano piano vediamo dove arriviamo chiaramente più passano le generazioni più questo parametro sale vedete torna un po' indietro perché comunque un po' la casualità e un po' le mutazioni ovviamente incidono piano 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 mutazione 0,08 ok rispetto allo 0,2 allo 0,20 di partenza ok io vi saluto qui si conclude questa video lezione vi invito vi faccio rivedere i link vi invito a cercare il libro The Nature of Code appunto sul a questo indirizzo natureofcode .com e basta scendere e andare poi a leggi adesso e si apre la versione html processing lo scaricate da processing.org e sappiate che diciamo esperimenti esempi con gli algoritmi genetici si fanno anche in scratch e non sono semplici quindi come dire non lasciatevi impaurire da quello che avete visto in processing perché guardate qui in questo caso cosa accade anche qui questo è un po' un esempio in qualche modo simile a quello dei razzi cioè c'è questo puntino che si riproduce generazione dopo generazione e la fitness diciamo l'adeguatezza che viene tramandata che viene trasmessa la generazione successiva diciamo è tanto ma maggiore in quei puntini che chiaramente si avvicinano al bersaglio ok e piano piano in maniera non deterministica il nostro il nostro puntino pam arriva arriva clone generazione dopo generazione arriva a destinazione guardiamo dentro il codice come vi ho detto all'inizio non è che perché siamo in scratch la cosa sia molto molto semplice ok chiaramente questo è anche un comportamento graficamente diciamo più semplice rispetto a quello visto in processing ma insomma chiaramente qui c'è un bel po' un po' di codice da da sbrogliare da capire anche se chiaramente questo dal punto di vista grafico è più semplice di quelle cose di quanto vi ho fatto vedere in precedenza io vi saluto e ci sentiamo e ci vediamo al prossimo webinar